Nel fine settimana nuova performance, stavolta in Bulgaria, della rappresentativa Italian Under 21 e campionato europeo di karate, specialità kata individuale, squadre e comité. 34 le nazionali presenti all'importante appuntamento internazionale e ancora una prova eccellente del vittorioso Giuseppe Panagia che, assieme a Stè e Gallo, ha letteralmente dominato le gare dove sono stati chiamati a lottare. Al primo incontro è successo contro la Spagna, 3-2, poi è toccata la Serbia, superata nettamente per 4-1, quindi la finale contro la Turchia, attuale campione del mondo ed europea in carica, travolta con un alto rotondo 4-1. Una squadra italiana che naturalmente ha raccolto consensi e applausi a scena aperta, soprattutto dai numerosi tifosi italiani presenti sugli sparti. Un successo di squadra meritata, dichiarata al tenere lo stesso Panagia, allenato come sempre dal maestro Santo Torre. Una vittoria, dice Panagia, un titolo che ripaga degli enormi sacrifici sopportati per arrivare al meglio a questo prestigioso appuntamento. Adesso mi riposo, poi penserò ai prossimi impegni, tra cui anche gli esami di maturità.